Ok, allora questo vuole essere un video di risposta a quello di De Pareva, dove può uscire qualcuno dal bar, vuole essere un video di risposta al video di Victor Laszlo88, uno youtuber che io seguo molto volentieri perché è sempre molto interessante nelle sue disamine, molto giovanili, non giovanilistica, lui è giovane, quindi sono disamine molto giovanili, ovviamente si è soffermato sul Joker, leone d'oro, io modestamente lo vidi in Sala Grande, il Festival di Venezia, il 31 agosto, in cui fu proiettato in Anteprima Mondiale, alla fine della proiezione, Joker dura due ore e due minuti, credono, scattò un applauso all'unisono da parte di tutta la sala, un'ovazione clamorosa, sembrava di stare alla finale dei mondiali 82 e 2006, sì, gli azzurri che vinsero il mondiale, film straordinario che ha superato ogni più rose aspettativa, io intitolai il nome del mio canale l'anno scorso, verso questo periodo, forse un po' più in là, verso ottobre, Joker Marino, perché abbia questa intuizione? Posso avere avuto un'intuizione geniale nella mia vita, non so se eccezionale, Todd Phillips, regista screditato, o perlomeno sottovalutato, perché si sa, il genere commedia viene sempre considerato minore, e all'improvviso esplode con questo film, ma il suo talento si era già, già si intravide, Victor Laszlo cita giustamente i trafficanti, con un magnifico John Hill, candidato ai Golden Globe quell'anno, e, però, Victor Laszlo stavolta, hai un po' sbagliato tutto, spengo la macchina, hai sbagliato tutto, perché il film non l'hai visto, quindi tu lo definisci un cinecom che dici, ha vinto la 76e mostra, la 76e mostra, innanzitutto, Joker è un mostro, no, la 76e mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, Gioca di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix, probabilmente candidato all'Oscar, ignorato, o perlomeno considerato, anzi era uno strafavorito per la Coppa Volpi, e poi in giuria Paolo Verzia, spinto affinché ad essere un premio a un italiano, quindi Marinelli, Gioca Marino, la canzone di Marinella, De Andrè, era De Andrè, no, sì, sì, era lui, Adesso faccio un po' la voce da Christian Bale di Batman, oppure da H. Ledger, di cui parli, Victor Laszlo, giustamente premiato, forse sì, in maniera postuma, come doveroso omaggio alla sua prematura scomparsa, H. Ledger è un attore piuttosto snobbato, considerato per la sua bellezza, che però lavorò con Terry Gilliam, e ricordiamo, fu nel Dottor Parnassus, sì, 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 ove forse al posto di Colin Farrell avrei visto bene Joaquin Phoenix, al posto anche di Johnny Depp, no, 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 ok, non è un cinecomic, Victor Laszlo, non l'hai visto? Ti consiglio la canzone di Rino Gaetano, mio fratello è figlio unico, non bisogna mai giudicare o parlare di un film senza prima, prima vederlo, no? Non è un cinecomic, allora Joker è una figura archetipica, diciamo così, un archetipo, no? È un bel tipo però questo Joker, no? E allora, ispirato alle atmosfere di Taxi Driver, Raper Una Notte, e chi l'ha detto che il genere comedy è un genere minore, Raper Una Notte mischia il dramedy al comedy, e poi perché non è mai uscito da noi il film di Taylor Huckford, The Comedian, no? Su Jackie Bork, 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 è strano questo fatto, De Niro è sempre stato affascinato dalla commedia, dalla sua incursione nel genere, appunto, comedy, fu sempre, fu sempre, sempre, aspramente criticata, molti considerano una debacle, 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 il suo darsi a questo tipo di cinema commerciale da Ti presento i miei, la saga Me The Parents, in poi probabilmente è iniziato ancora prima questo, diciamo, stravolgimento di carriera da parte di Robert De Niro con Analyze Is, Terapia e Pallottole, non è vero perché girò prima di Mezzanotte, Lo Sbirro, Il Boss e La Bionda, film molto simili, in certo senso, a Joker, che uniscono alle atmosfere cupa e nottune, pensiamo alla splenita, la fotografia di chi è di Robin Muller, no? compianta anche lui, pupillo di Jim Jarmusch, appunto di Mad Dog and Glory, quindi, no, più che un cinecomic, no, Victor Laszlo, è la storia di un comic, un comic, cioè, probabilmente di un disperato, è una persona seguita da un centro di salute mentale, è una persona che sostiene colloqui, pressoché giornalieri, con una psicologa, che di lui non capisce, non capisce, probabilmente non vuole capire nulla, perché è seduta sui suoi privilegi, come è seduto sui suoi privilegi, appunto Robert De Niro Murray, Murray Franklin, quando uscirà il film il 3 ottobre, capirei perché, caro Victor Laszlo, sei molto, molto bravo, sei molto simpatico, però, queste volte non hai visto il film, quindi, hai parlato un po' a sproposito, e hai detto anche un sacco di fregnacce, un sacco di fregnacce, vi piace questo look da Clark Kent, Clark Kent, un po' Christopher Reeve, lasciamo stare Cavill, questa è la tuta di Superman, no? Sì, tu dici che Joker, sì, Joker pone le basi concettuali, anche per il Joker di Todd Phillips, per un eventuale seguito, anche nel trailer si vede l'attore Brad Cullen Cullen, che interpreta Thomas Wayne, e chi è quel bambino che Joker guarda come se fosse il clown di Pennywise, potrebbe essere suo fratello, ma Batman è fratello di Joker, e Berman, Berman che non fu tanto considerato al Festival di Venezia, poi vinse l'Oscar, in Berman Michael Keaton critica con la testa di cazzo di Robert Downey Jr., Iron Man, e torniamo ai Vendicatori Solitari, agli Avengers, al cinema super eroistico, anche se Joker, il Joker di Todd Phillips è un, il film su un anti-eroe, un po' come Travis Bico, praticamente è Taxi Driver, trasposto nel 2019, quindi dopo 43 anni, ci siamo accorti tutti che la società non è cambiata, è un film di forte impatto sociologico, Vittor Laszlo, diciamo prende a modello Joker in quanto simbolo della ribellione, della ribellione beffarda, ti ricordi la scritta, sotto Heath Ledger, il suo sorrisino, appunto un po' strafottente, come quello appunto di You Talking To Me, Travis Bicole, Taxi Driver, Why So Serious? È una società che si è presa troppo sul serio, allora i nostri genitori si lottarono per il 68, la rivoluzione sessuale, poi diciamo sadagiarono, sappianarono nei privilegi, e noi siamo una generazione di persone che probabilmente vivono le stesse rabbie, gli stessi disagi, la stessa nostra paura di sentirci perennemente inadeguati rispetto al contesto sociale che cambia, anche tu dici il cinema cambia, siamo bombardati di informazioni, questo mi eccita per il mio lavoro, sono contento che tu hai trovato la tua stabilità nell'entropia, nella seconda legge della termodinamica, della settima arte più caotica caotica e movimentata, però l'ho detto, ho realizzato molti video su Joker, non è un cinecomic, Victor Laszlo, cioè ci sono tre, quattro elementi, forse anche di più, inseriti in maniera furba da Todd Phillips, perché se il film avrà successo, come già sta avendo successo, ancora prima che sia uscito ufficialmente nelle sale, per ora è un successo di critica, di chi l'ha visto come me al Feseo di Venezia, di chi l'ha recensito, di chi è entusiasta, è rimasto positivamente basito e sterefatto dinanzi a quello che è un dark masterpiece, un capolavoro, secondo me di cui si parlerà ampiamente, un film che sarà candidato a molti Oscar, inevitabilmente, spero anche nella candidatura a Robert De Niro, che dopo tanti anni di appannamento, ad appannaggio forse, e di attori anche della sua generazione meno bravi di lui, che l'hanno superato in termini di prestigio, perché Robert De Niro per molti si buttò via, si diede appunto al cinema più anche trash, Dirty Gramp non ho scatenato e perdendo un po' della sua allure, del suo mito, della sua intoccabilità, di attore fra i più grandi, se non i più grandi, della storia del cinema. Non è un cinecomic, Vittor Laszlo, tu dici mi sbagliavo, anch'io e mi molto da ridire quando si creò questo clamore molti mesi fa quando partirono le riprese, affermando all'ennesimo cinecomic che palla ancora su gioca, non vi è bastato con la schifezza di su sai, su si, su si, qua, adesso pure il segno, Jared Leto, Jack Nicholson, eccetera, eccetera, ancora, non è una rielaborazione del Joker, Vittor Laszlo, e semmai è una reinterpretazione di quel tipo di cinema apparentemente scomparso, di cui nessuno appunto in tempi di film sui supereroi sentiva la mancanza, cioè il cinema degli anni 70, la Hollywood, arrabbiata, polemica, scontrosa, e... che sta succedendo?